Buongiorno Oh, sono arrivata sul lago, altro che Milano, guardate, che meraviglia, anche questo acciottolato qui è bellissimo, stupendo, fa quasi caldo pure, adesso per parlare con voi mi ammazzo perché la strada è pericolosissima, aiuto Ecco, guardate, guardate, padrone di casa, elegantissimo, Kate, aperitivo pronto e mamma mia, no vabbè ma questa vetrata è pazzesca, guardate che vista, adesso mi inciampo e mi ammazzo, che meraviglia, non so se la luce rende la bellezza di questo posto Grazie